Non era semplice scegliere un progetto vincente, i ragazzi della quarta A dell'Istituto Moretti di Voltarrosto avevano tra le mani varie idee, ma poi hanno pensato alla loro città, a Roseto, alla pista ciclabile, alla possibilità di avere un'illuminazione lungo il tracciato semplicemente pedalando. Ad ottobre ci hanno richiesto se volevamo partecipare a questo progetto Green Jobs e noi tutti della classe abbiamo espresso nostre idee, ci siamo divisi in gruppi, ci sono state quattro idee diverse, però abbiamo constatato che l'idea della bicicletta, cioè della nostra power bike, era l'idea migliore e quella più realizzabile e più green. Poi è stata l'idea vincente? Sì, abbiamo vinto, siamo arrivati i primi tra le mini imprese votate dal pubblico in nazionale. Quanto è stata grande la soddisfazione e l'emozione? È indescrivibile perché non pensavamo di aver vinto, però quando ci hanno chiamato eravamo tutti felici e non vedevamo l'ora di salire su quel palco a ritirare il nostro premio. Ovviamente ora puntate affinché questo progetto diventi una realtà. Sì, non vediamo l'ora infatti di avere un incontro diretto con il comune di Roseto per spiegargli al meglio la nostra idea e magari renderla possibile, renderla in realtà. Per trasformare un progetto vincente in realtà c'è bisogno ora di una università di ingegneria meccanica, magari anche di finanziatori perché quella power bike può essere costruita e può rappresentare il futuro immediato per la sostenibilità di un territorio. Adesso il nostro obiettivo sarà quello di cercare appunto un partner scientifico nel senso di trovare l'università di ingegneria meccanica che collabori alla progettazione, alla messa in atto, la progettazione l'abbiamo già fatto, alla realizzazione del meccanismo che collega la pedalata all'accumulazione dell'energia e quindi poi al passaggio successivo al rilascio dell'energia alla colonnina. I dettagli noi li abbiamo, adesso mancano quelli tecnici, meccanici che ci consentono la realizzazione del prototipo. Sulla carta possibile dobbiamo vedere quanto percorribile o meglio i tempi di percorribilità di questa impresa, un'impresa green, ecologica e a basso contenuto, ha impatto ambientale zero e sicuramente di ritorno per il benessere di Roseto. Noi la prima cosa a cui abbiamo pensato è l'illuminazione della nostra pista ciclabile. È stato il nostro primo pensiero che ci ha portato fino a qui e fino a lì a vincere questo progetto più votato dal pubblico. Grazie.